Scoppia una nuova crisi di maggioranza al Comune dell'Aquila e il Sindaco Cialente caccia dalla sua giunta l'assessore Lelio De Santis, segretario regionale dell'Italia dei Valori, che ieri, in un incontro con la stampa, aveva accusato l'amministrazione di eccesiva lentezza, invitando a un rilancio in vista dell'ultimo anno e mezzo di mandato. Alla luce della conferenza stampa tenuta ieri dall'Italia dei Valori, ha dichiarato il Sindaco che fa seguito ad altre esternazioni dell'ex assessore De Santis, ritengo venuto meno il rapporto di fiducia, lealtà e comprensione sua e dell'IDV nei confronti della mia persona, degli altri assessori e dei dirigenti che con abnegazione prestano il loro servizio fra le mille difficoltà che attanagliano la nostra azione amministrativa, caratterizzata da una intollerabile carenza di personale acuita dalla complessa vicenda del rinnovo del contratto dei precari. Ritengo, ha proseguito il Sindaco, che sia arrivato il momento di andare ad un approfondito, serio, ponderato ma definitivo chiarimento della maggioranza di centro-sinistra che governa questa fase bestiale della vita di questa comunità. Se due consiglieri dell'Italia dei Valori, ha concluso Cialente, Adriano Durante e Giuliano Di Nicola, dovessero decidere di far mancare il loro sostegno all'amministrazione comunale, potranno farlo serenamente dinanzi a tutti i cittadini. Una decisione ingiustificata, commentato a caldo l'Italia dei Valori, che ha preso prima dalla stampa e poi da uno scarno comunicato del Sindaco, che De Santis è stato estromesso dalla maggioranza. Il Dv chiede che il Sindaco Cialente spieghi alla città quando, come e con quali atti, il partito che con più passione ha sempre preso le sue difese sia venuto meno al principio di lealtà. Oh, la mappe di Quincy non è pronta? Non lo so che devo pensare. Comunque adesso la Giunta sta raccogliendo...